Musica Carissimi telespettatori ben ritrovati, oggi puntiamo i riflettori sulla situazione politica al comune di Catanzaro. Come si sa il comune di Catanzaro guidato al sindaco Nicola Fiorita si regge su una maggioranza piuttosto posticcia, fatta dalla coalizione di centrosinistra, poi da un'area di centrodestra rappresentata dal consigliere regionale di Forza Italia Talerico, peraltro avversato dal gruppo consigliare del suo partito e da alcuni consiglieri comunali diciamo camareonti, senza una precisa coloritura politica, anche se in passato hanno spesso orbitato nel centrodestra. Insomma un minestrone, un pasticcione abbastanza indistinto, la cui disomogeneità in effetti si traduce in continue mediazione a ribasso e in un sostanziale stallo amministrativo. Sul piano politico a Catanzaro quindi c'è un centrosinistra che esiste solo sulla carta, ma anche un centrodestra abbastanza sfilacciato, come appunto dimostra la guerra intestina in Forza Italia. Nei prossimi giorni è annunciato da parte dello stesso sindaco Fiorita, una sorta di tagliando al comune, una sorta di ribasso che però, secondo diversi analisti politici, rischia di lasciare in realtà le cose così come sono. Insomma a Catanzaro c'è sempre il solito ginepraio con la politica che ormai ha completamente abdicato ai gattopardi, ai portatori di interessi di piccolo cabotaggio. Forse è ora che adesso qualche grande partito inizia a occuparsi seriamente di Catanzaro che ricordiamo non è un piccolo borgo ma fino a prova contraria è il capoluogo della Calabria.